che va valutato, va letto, va considerato dal punto di vista sistematico non si sa ancora nemmeno se ci sarà un'impugnativa di qualche tipo quindi prima ancora di porsi, per non parlare delle linee guida del garante europeo che sono considerate addirittura di natura super costituzionale quindi questa espansione incontrollata della soft law è un'ulteriore confessione di fallimento dell'ordinamento giuridico rispetto alla sua capacità di garantire un'effettiva tenuta dei diritti che alla fine vengono gestiti, non so dire nemmeno se tutelati o lesi da soggetti che per istituto non hanno questa funzione il che ci porta a questo punto a domandarci cosa sia effettivamente il potere visto che sono già le cinque e un quarto e abbiamo credo un'altra ventina di slide da trattare, non entro troppo nel merito di questa parte più generale e vi rinvio a quello che trovate in nota, è un TEDx del 2014 molto bello si chiama How to Understand Power che spiega in modo estremamente netto, in modo estremamente chiaro qual è la relazione fra potere e cittadino ed è un TEDx molto chiaro per capire poi tutto il ragionamento che c'è rispetto al rapporto fra tecnocontrollo e sopravvivenza dello Stato perché se individuiamo le fonti del potere in questi sei elementi vediamo subito come le tecnologie diventano un elemento fondamentale la possibilità di esercitare la forza fisica che è monopolio del governo viene meno nel momento in cui è vero che c'è il tecnocontrollo ma è anche vero che la stessa tecnologia può essere utilizzata in funzione anti-istituzioni le criptovalute non sono un problema e su questo vi rinvio a un articolo che ho pubblicato su Ragion Pratica ma è tutto disponibile poi liberamente sul mio sito il problema creato dalle criptovalute non è un problema di riciclaggio ma è un problema di, anche qui di ordine pubblico e cioè di sottrazione, di messa in crisi del controllo dello Stato sulla creazione del valore battere moneta è sempre stato un attributo della sovranità le prime teorizzazioni formali risalgono credo al XVI secolo con Baudin ma il concetto è nella sostanza che il controllo del valore cioè di ciò che regola gli scambi è una forma di controllo sui cittadini se uno strumento tecnologico mi consente di generare e trasferire valore senza il controllo dello Stato sto minando la possibilità per lo Stato di esercitare la sua funzione di controllo nei confronti dei cittadini e qui cominciate a vedere che lo scenario comincia a cambiare forma comincia quasi a ribaltarsi non stiamo più parlando di tecnocontrollo dello Stato nei confronti dei cittadini ma di possibilità tecnologica di sottrarsi al controllo dello Stato non in nome di questa omnipresente privacy ma in nome di un progetto anarchico concettualmente parlando molto più strutturale un'altra forma di esercizio del potere dello Stato è appunto l'uso della legge e della burocrazia pensate in che modo il processo telematico ha scardinato il sistema della pubblicità dell'udienza e quindi del controllo diffuso della cittadinanza sull'operato del potere giudiziario c'è una circolare che non so se sia mai stata abrogata addirittura avallata anche dal Consiglio Nazionale Forense sulla base della quale è vietata la registrazione dell'udienza a distanza con buona pace della pubblicità appunto dell'udienza e della possibilità di chiedere che questo venga fatto norme sociali, soft power il soft power è il corrispondente del soft law riti sociali, prassi, creazione di tribù tutte queste modalità di relazione sociale che peraltro sono storicamente sempre state presenti nella storia della società adesso trovano un'accelerazione nella disponibilità di piattaforme di social networking non stupisce quindi l'interesse dello Stato degli Stati, degli esecutivi in particolare di poter accedere a questi dati e poter controllare perché come dimostrano appunto i fatti legati alla pandemia alle proteste maturate per la gestione politica della pandemia i social network hanno avuto un ruolo fondamentale in termini di destabilizzazione dell'ordine pubblico e qui cominciate ancora una volta a vedere che la polarizzazione buoni cattivi stato cattivo che controlla cittadino vessato che si deve difendere questa polarizzazione in realtà funziona male perché non è nelle cose analogamente, analogo discorso vale per quanto riguarda il social drive costituito dalle ideologie che nel momento in cui diventano immediatamente diffuse si possono propagare molto molto velocemente possono creare dei picchi di reattività che ancora una volta mettono in crisi la possibilità di governo e da questo punto di vista c'è anche da dire che il controllo pubblicistico statale su questo tipo di attività è o sta per diventare o diventerà una delle attività fondamentali per le funzioni di pubblica sicurezza che si occupano di controllo politico da ultimo il problema del potere si confronta con la gestione delle folle voi sapete che le folle sono un bioma nel senso che sono a tutti gli effetti un organismo biologico che è superiore alla somma dei singoli componenti che ne fanno parte c'è un bellissimo lavoro oramai molto datato di fine ottocento la psicologia di Ful ma che però conserva ancora una capacità euristica una capacità esplicativa notevole per spiegare quali sono i meccanismi che mettono in moto che governano il funzionamento delle folle in particolare l'abbassamento del senso critico e della capacità di capire quello che sta accadendo per chi di voi ha mai partecipato a un concerto rock con decine di migliaia di persone questi discorsi dovrebbero essere abbastanza familiari perché succede spesso purtroppo che da qualche parte qualcuno comincia a spingere oppure qualche imbecille grida al fuoco o altre cose e provocando così una vera e propria reazione automatica per cui si viene schiacciati o si viene presi nel flusso senza nemmeno capire il perché sta succedendo vengo spinto l'unica cosa che posso fare è spingere a mia volta salto questi questi punti per arrivare al cardine di tutto il discorso che ci spiega poi il problema del tecnocontrollo se dobbiamo regolare il potere diamo per scontato che il potere abbia un superiore debba avere un superiore non reconnaissance questo superiore non reconnaissance è la democrazia ma soprattutto è il rule of law cioè il concetto che nessuno è al di sopra della legge in realtà non solo sono questa cosa non è nemmeno stata inventata dagli inglesi con la magna carta come tanto piace dire ai giuristi anglosassoni perché già Cicerone nella Procluenzio scriveva che legum servis humus ut liberi esse possimus quindi con leggero anticipo sulla necessità politica di mettere un freno allo strapotere del sovrano il diritto romano già conosceva il concetto di primato della legge però perché il rule of law possa funzionare è necessario che ci sia un potere condiviso fra i consociati perché altrimenti si realizza una situazione tutto sommato paradossale sulla base della quale se il problema è avere una legge va bene, me la faccio io che comando e che non devo rispondere di nulla a nessuno e quindi abbiamo risolto il problema trovate in questo libro appena uscito di cui vi suggerisco vivamente la lettura una ricognizione sullo stato attuale in rapporto anche all'impatto rappresa e costituito dalle tecnologie del concetto di rule of law nel ordinamento occidentale dicevo che il problema strutturale del rule of law è decidere se abbia una natura etica e dunque oppure se abbia una natura formale o avalutativa riconoscerete in queste considerazioni il dibattito storico direi quasi secolare se non millenario del rapporto fra diritto naturale e poi il concetto di diritto positivo e via discorrendo sta di fatto che ancora oggi il regicidio l'assassinio politico che sono che e quindi l'utilizzo della forza della violenza da parte di uno stato nei confronti di individui o di altri stati senza che ci sia una uno stato di guerra una condizione formale di guerra dichiarata secondo le leggi del diritto internazionale di guerra bene l'esistenza di questi comportamenti mette in crisi il concetto di rule of law perché le cosiddette targeted assassination cioè gli omicidi mirati che sono tuttora ampiamente praticati anche da stati insospettabili vi basta cercare sulle cronache per vedere che dagli Stati Uniti alla Russia alla Francia a Israele che non ne fa assolutamente mistero l'eliminazione fisica di avversari di avversari dello Stato è un comportamento assolutamente accettato e tollerato il problema però di attribuire un valore assoluto al rule of law è quello di creare di farci trovare nel paradosso dell'onnipotenza conoscerete sicuramente questo vecchissimo paradosso filosofico che viene formulato normalmente in questo modo definita la forza irresistibile una forza che non può essere arrestata è un oggetto inamovibile come un oggetto che non può essere spostato cosa succede se applica una forza irresistibile a un oggetto inamovibile per rispondere a questa domanda dobbiamo per forza interrogarci su come funziona la tassonomia del potere abbiamo dei consociati che si radunano in un'assemblea un parlamento e la regolarità la sicurezza di questo sistema è garantita a tre livelli è garantita dalla magistratura che si occupa di reprimere gli illeciti è garantita dalle forze di polizia che appunto esegue svolge compiti di pubblica sicurezza ed è garantita dalle attività di intelligence che a seconda di quello che succede in vari paesi in ogni caso si occupano di tutta quella parte di minacce per lo Stato che non trovano possibilità di essere gestite dagli altri due ambiti e quindi possiamo ipotizzare un grafico del potere che funziona in questo modo andiamo dalla parte più scura dove c'è il segreto a quella più aperta dove governata dalla trasparenza e dalla pubblicità del controllo sull'operato con in mezzo un ruolo ancipi un ruolo bicipite delle forze di polizia che da un lato collaborano con la magistratura ma dall'altro lato però hanno anche la loro funzione più legata ad una raccolta informativa e dunque da un lato abbiamo al massimo dell'oscurità la national security e dall'altro al massimo della trasparenza il processo penale che obbediscono appunto a delle esigenze di tipo totalmente diverso in realtà la situazione è abbastanza più complessa perché non abbiamo solo questi tre interlocutori ma dal punto di vista delle attività non immediatamente percepibili abbiamo per esempio quelle del lobbismo e delle logge in generale dei gruppi di potere dall'altro lato invece abbiamo i gruppi organizzati che possono andare da forme assolutamente legittime come le associazioni sindacali a forme meno accettabili come l'estremismo politico di varia natura quello che si crea quindi in realtà fra questi ambiti è uno scambio continuo di informazioni che però in pratica a volte produce di cortocircuito e altre volte come nel caso della gestione dell'operato dei servizi di intelligence provoca una circolazione molto limitata delle informazioni per cui sulla base di esigenze politiche informazioni che pure sarebbero utili per la pubblica sicurezza o addirittura per l'amministrazione della giustizia vengono celate per essere utilizzate in ambiti di tipo diverso e dunque da un lato abbiamo il concetto di segreto di Stato che serve per costruire un muro relativamente invalicabile fra le attività di intelligence e quelle della magistratura ma abbiamo anche un sistema tale per il quale ai cittadini non è immediatamente consentita una forma di controllo sul modo in cui le forze di polizia esercitano i loro i loro compiti se non appunto tramite questa giurisdizionalizzazione della quale abbiamo parlato grazie a tutti